So che il Piave è il fiume più pericoloso che c'è in Italia e non c'è nessun bacino di laminazione realizzato ad oggi. È necessario farlo, non abbiamo deciso noi, non è la regione che ha deciso dove farlo, ma è l'autorità di bacino. Noi siamo soggetti a 8 ore, ci hanno dato i soldi per fare la progettazione e certamente non possiamo non farlo perché se succedesse qualcosa saremmo chiamati a risponderne in tutte le sedi. Abbiamo avviato la progettazione, ci è stata contestata presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche questo avvio di progettazione, poi si esprimeranno i tribunali. Io quello che dico è che sul Piave, come su tutti gli altri corsi d'acqua, è necessario intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini e il Piave è uno dei fiumi, anzi il fiume più pericoloso in Italia perché nel 1966 è arrivato a quasi 5.000 m3 al secondo di portata e invece con un vaia, quando l'abbiamo visto tutti al massimo, in piena, ne portava la metà. Quindi c'è un'altra metà di acqua che bisogna trovare da sistemare con una sistemazione temporanea per alcune ore quando il Piave arriva a quei livelli là. Grazie a tutti.